Arrestata la banda specializzata in rapine e furti seriali alle farmacie, due amici, due sbandati trevigiani, nonostante un lavoro. Rinviati a giudizio Alex Viale, camionista di 35 anni, di Treviso, e Michele Ortolan Frescura, 32 anni, di Silea. Sono i responsabili degli assalti con coltello a Serramanico di febbraio e marzo scorso, in Borgo Cavour e in Viale 4 Novembre e del tentato furto al negozio di telefonie di via Bixio, a Treviso. Entrambi ora devono rispondere di rapina gravata in concorso. Sicuramente gli autori del fatto hanno dimostrato una consistente pericolosità sociale, ma l'azione degli investigatori della squadra mobile di Treviso, unitamente al supporto della tecnologia, ha consentito di far cessare questi fatti. A incastrare due balordi le telecamere di videosorveglianza del centro, con le testimonianze dei residenti, raccontavano che uno dei due aveva il vizio di confezionarsi le sigarette manualmente, particolare quest'ultimo che ha permesso di identificarli perché nei filmati si vedeva chiaramente uno dei due intento a prepararsi la sigaretta con cartina e tabacco appena comprati, dettaglio in cui si vedevano i due a volto scoperto, mentre per gli assalti agivano mascherati con casco sciarpa. Grazie a tutti.